Sì o no? Te lo ricordi? Te lo ricordi? Sì? No, 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 non passa lì davanti alle braccia, oppure caccio sotto, vado a prendere la testa, ok, adesso muoviti la gamba, esatto, e gira. Dovesse servire di girarmi, ma cosa succede? Lo faccio io, grazie, da questa posizione mi controlla e invece di portarmi a terra va a cavallo, va a cavallo e mi fa una, cosa mi vorresti fare da qui? Bravo, per cui va a fare questo lavoro qua, la prima cosa da fare è questa, lui metterà dentro i ganci sicuramente, e mi porta a terra. Bene, andiamo a fare questa, se lui stringe è un casino, ok, però diciamo che ce la fa lo stesso, lui stringe e io metto il mento di lato, ok, mi giro dall'altra parte, e devo prendere aria, prendo aria, caccio tutta la mano e faccio questo lavoro qua, ok, da questo punto che sono appoggiato qui, faccio questo lavoro qua, Grazie.